salve a tutti ragazzi oggi recensisco il tablet samsung galaxy tab a 2019 versione 2019 questo qui è la versione e solo wifi quindi praticamente c'è disponibile sia la versione 4g e wifi e sia la versione solo wifi nel contesto allora andiamo subito con la confezione questa è la conversione qui c'è praticamente le quattro specifiche che dice samsung allora arriva innanzitutto con con questa comunque ce l'ho tolta dopo averlo provato per bene allora qui troviamo carica batterie che carica la batteria 5 volts per 1.55 ampere quindi circa 9 watt 10 watt il cavetto di tipo c usb a da tipo c e poi qui tutta la manualistica libretti di istruzione tutto qui abbiamo la spilletta allora due speaker quindi stereo tipo c per ricaricare la batteria carellino micro sd oppure per la versione 4g con la sim e micro sd bilangere del volume quindi minimo e massimo spegnimento e accensione quindi gecche per le cuffie e microfono microfono quindi qua è pulito poi abbiamo qui e fotocamera da 8 megapixel da 8 megapixel mentre davanti invece è proprio 5 megapixel allora il tablet in sé tutto quanto è proprio tutto in alluminio può sembrare un po plastica però è in alluminio in alluminio solamente questa parte qui questa è in plastica è proprio per ricevere il segnale wifi se no sarebbero problemi allora qui abbiamo il carrellino della sd ecco qui ci mette una micro sd infatti qua è chiuso perché questo qua è la versione solo wifi c'è anche la versione 4g che quindi questo spazio che è chiuso praticamente qui ci va la sim allora come materiale infatti ho detto quindi è in alluminio il design è carino non è male certo è un tablet di fascia di fascia medio bassa scusate ecco ora si è messo su allora in per sé ai lei la modalità quindi l'opzione in cui io lo posso infatti riaccendere così con due tocchi allora si sblocca subito allora come fluidità fluidità e buono cioè non è male vedete un po come la velocità però prima di partire con la velocità vi faccio vedere il display innanzitutto il display quindi il display un po lo metto al massimo ok quindi c'è abbastanza già tanta luce quindi è meglio che faccio vedere allora display qualità è un display 10 pollici full hd in 224 dpi in più si vede benissimo non so se notate quindi si vede bene come visibilità degli angoli cioè non vedo differenze certo i display amoled che ci sono di fascia più superiore di samsung si vedono ancora meglio si vede bene la nitidezza pure è abbastanza vivace mi faccio vedere subito il video quindi prendiamo quello dlg che quindi come avete visto in questo video praticamente la qualità è abbastanza buona come 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 definizione di display quindi quindi come luminosità poi abbastanza alto quindi già abbiamo messo noi alto come come cosa non possiamo mettere a metà si vede pure bene non si vede male anche al minimo al minimo stesso si vede ancora bene non non è male come né come luminosità né come display allora ora andiamo come processore e vediamo un po la velocità come gira le app memoria internet speed test allora come speed test in wifi e dual banda quindi prende a tutte le band a bg nrc al bluetooth 5.0 ha pure il gps e che dire io ho la fibra praticamente sono 78 mega posso dire che praticamente come a download upload va benissimo internet internet allora internet andiamo un po su internet ma è sempre fluido come tablet proprio ok ha caricato guardate ragazzi non è non si impalla non ha un problema è abbastanza veloce possiamo andare dal sito possiamo andare su amazon ad esempio vediamo ok no è proprio si è proprio velocissimo possiamo andare dal sito tecnologico che seguo sempre hdblog no è sempre veloce sempre veloce quindi ragazzi come velocità è benissimo almeno che con internet poi multimedialità e quant'altro possiamo anche vedere anche un po come gira sulla e play ad esempio andiamo su mettiamo un film a qualsiasi qua il giustiziale della notte come avete notato comunque si vede bene non si impalla non appoggiare il giustiziale della notte problemi di impuntamenti e di altro comunque vai play quindi netflix team vision come questo è proprio il tablet adatto per questo tipo di esigenze come batteria invece non è male infatti ancora siamo al 58 per cento di batteria andiamo all'assistenza dispositivo quindi batteria al momento questo tablet android 9 con la one ui 1.0 allora 2 ore 40 ok perché l'ho acceso ora e quindi praticamente non consuma proprio per sai non c'è proprio il dispositivo stand by non consuma troppo sistema android un po bel 3 per cento rispetto al 13 per cento di schermo che dire quando l'ho usato più tempo allora per quanto è dichiarato samsung e 10 ore di di autonomia è proprio quella circa fa 9 ore e mezza 10 ore di schermo poi dipende dall'uso dipende quello che si fa come audio come avete già visto già l'audio è abbastanza forte in questo infatti grazie ai due altoparlanti comunque come bassi più o meno ci sono come fotocamera allora come fotocamera è buono anche i selfie sono buoni c'è una buona luce i video li fa buoni pure quindi c'è il panorama c'è il video c'è ovviamente si può fare il video c'è la modalità profe professional allora ad esempio noi abbiamo questo qui quindi la fotocamera anche se è singola fotocamera ma comunque si può fare anche quella zoomata già da due per quindi c'è questa funzionalità che comunque è ottima poi comunque se ci possono mettere diciamo tutte le le motion tutte questi sono veramente ci sono su bisbi credo che anche caricato bisbi qui però non funziona come assistente si può mettere ai logo il lei la dipende dalla fotografia quindi si può mettere un po' di di cose qui anche degli effetti ci sono degli effetti e tutto comunque come foto non è male e ovviamente con tablet quindi evidentemente ha sempre il suo da ovviamente non può mai scattare foto come uno smartphone quindi evidentemente possono venire però con una buona luce e fuori si vede bene anche se si vede bene infatti ha una fotocamera da 8 megapixel posteriore con registrazione video in full hd e davanti 5 megapixel con registrazioni sempre in full hd quindi allora in andiamo su software quindi il software come vedete questo qui è la one ui 1.0 di samsung è quella che proprio amo di più perché è la grafica e software più più personalizzabile che ci sia meno per me io la penso così che dire vado a calare un po la luminosità perché si vedono un po ecco che dire ragazzi praticamente come software è ottimo ovviamente c'è il galaxy store si possono scaricare altre altre determinati applicazioni l'applicazione galaxy store un pochettino non è proprio tanta fluida mettiamo meglio così tablet perché è meglio si vede meglio allora ragazzi abbiamo l'orologio c'è la calcolatrice al calendario l'archivio che per vedere ovviamente tutto tutti i file recenti la memoria interna se si mette una micro sd qui si vedono quanto spazio c'è una bella fotogramma abbiamo detta le mail di su di samsung che buona la galleria come come abbiamo detto c'è anche il foto editor vi faccio vedere ok c'è il foto edisi si può ritagliare se ci possono mettere tutti gli effetti si ci possono mettere gli sticker come vedete qui ci sono tante modalità si ci può scrivere nella foto ecco mentre che c'è vi parlo anche di tastiera di tastiera abbiamo le motion le motion si tutti i tipi di tutto e poi abbiamo questa funzionalità che è bellissima perché faccio io scrivo ciao e lui mi riconosce che ciao se io ad esempio scrivo tab a 2019 e uno semmelo giusto quindi è una bellissima è una figata sta questa poi vi dice anche i suggerimenti e nello stesso momento qui ovviamente ci sono tutti gli appunti ci sono tutto comunque la tastiera è completa è quella di samsung quindi non è è perfetta rispetto a quella di google su alcuni tablet questo ovviamente è una cosa in più poi abbiamo le impostazioni con le impostazioni abbiamo tutte quindi connessioni suono notifiche e si possono modificare gli sfondi la schermata di blocco i tema i temi sono tutti quanti eh che si possono comunque eh aggiorna cioè non aggiorna scusate aggiornare no però cambiare sia anche le icone e oltre agli sfondi a ecco e l'unica cosa era informazioni del tablet quindi praticamente ecco one ui 1.1 versione 9 in più in più in più abbiamo che se che ha le patch di di marzo 2020 questo tablet sarà comunque aggiornato ad android 10 verso verso agosto verso magari giugno verso luglio non so quando rilasciano quindi l'aggiornamento ma comunque sarà aggiornata ad android 10 riceverà aggiornamenti software mensili ogni tre mesi e ovviamente queste tablet perché ovviamente la politica di samsung quindi vanno a diciamo a eh ad aggiornare anche ad android 11 quanto ci sarà android 11 in più eh volevo eh volevo specificare una cosa molto molto importante l'applicazione funzionano bene i giochi funzionano bene pure volevo specificare anche che tanta gente e dice che eh questo tablet praticamente perché perché ha eh soli due giga di ram non va bene perché ce ne vogliono tre giga quindi va più veloce non è così perché questo tablet è due giga di ram in ddr4 x quindi praticamente è molto più veloce rispetto a un rispetto a un tipo di memoria anche che avrà anche che avrà 3 giga anche che avrà 3 giga di ram in ddr3 e e veloce cioè magari si vede qualche un po' di impuntamento o qualcosa ma quella è un pochettino alla grafica perché arriva a essere diciamo appesantita un po' e quindi quindi nulla e non magari con gli aggiornamenti software probabilmente con androide 10 sarà ancora più veloce perché androide 10 per me lo reputo più più veloce dimenticavo ali gesture quindi non androide gesture con l'indietro così quello sarà con androide 10 esclusivo e nulla ok applicazioni quindi di samsung sono un po' tutti questi qua c'è samsung members c'è assistenza dispositivo c'è 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 internet c'è samsung not che ad esempio possiamo a a scrivere a disegnare poi ci sono quindi i tasti indietro home che poi se premuto due volte non premuto no premuto a lungo si attiva l'assistente google in più questo qua e quindi ovviamente background comunque tutto aperto e non è proprio che si è si è impuntato imballato eccetera mentre swipe giù abbiamo la tendina tra quella tendina abbiamo un wifi la serie il suono bluetooth la rotazione a modalità energetica offline il filtro della luce blu che diventa giallo se non lo attiviamo un pochettino giallo se lo disattiviamo e diventa tipo un color freddo il gps bar di navigazione che sarebbe se non lo disattiviamo diventano con le gesture se non lo riattiviamo vedi gesti a schermo eccetera quindi abbiamo già e i tre tasti di navigazione la modalità non disturbare sincronizzazione torby atmos modalità bambino e la modalità notte che diventa tutto scuro se vedete bene quindi niente scuro anche il menu la tastiera e tutto e in più abbiamo poi la bacheca giornaliera l'area personale e lo smart pf poi qui le impostazioni l'ordine dei pulsante la barra di stato e questo qua è l'ulteriore account che si possono fare più account luminosità regolabile giudizio finale per me io lo voto sette e mezzo perché sette e mezzo perché veloce perché un design che non è tanto male e alluminio rispetto alla plastica solamente due giga di ram però un processore octa core exynos 7904 32 giga di memoria e niente ragazzi al massimo non posso dire valore sarà di questo qui non va bene basso 0.55 watt per chilo niente allora si trova questo tablet all'incirca di 150 160 euro in giro quindi online potrebbe essere un buon prezzo ai negozi fisici non lo prendete a prezzo listino di 219 euro perché non vale quindi per me 150 e più che sufficiente e c'è anche la versione 4g che al momento si trova in giro 190 euro allora per me io lo consiglio lo consiglio per chi non vuole spendere assai lo consiglio anche per chi vuole guardarsi un film vuole andare in internet o social eccetera eccetera non è un tablet per giocare quindi ragazzi i giochi ci sono le applicazioni ci sono ovviamente un android ovviamente io lo preferisco questo qui di più rispetto a un tablet di quelli la che per me sono diciamo tablet spazzatura quelli la proprio da 80 euro 90 euro cioè per me non io non li ritengo validi perché si bloccano dopo un mese e non hai l'affidabilità del prodotto in più non c'è una garanzia software quindi significa che non ci sono due anni di aggiornamenti lì non c'è nulla di lo compri ai quelle quelle quel software quell'android dettato cato io penso alcuni hanno anche un sono tablet anche in botta roccati ma la dico così però c'è non ci valgono c'è non vale la pena spendere invece di più 60 70 euro in più prendere questo prodotto è il samsung e praticamente a tutto iscrivetevi al mio canale e lasciato un bel like se vi è piaciuto e magari se avete un chiarimento un informazione un problema qualsiasi non esitate a commentarmi sotto al video